Presidente Centinaio, l'ultimo provvedimento sulla giustizia uscito dal Consiglio dei Ministri secondo voi favorisce i delinquenti, perché? Perché siamo ancora allo stesso livello di tutti quegli svuota carceri e provvedimenti vari che il governo Renzi ha portato avanti negli ultimi mesi. Vengono depenalizzati tutti quei reati considerati minori dal governo ma che poi alla fine dai cittadini vengono considerati come i reati più importanti. La truffa, il furto, il danneggiamento sono reati che se visti dal Presidente del Consiglio nella sua stanza dorata in Parlamento possono essere considerati al governo, possono essere considerati dei reati minori se pensiamo a tutti quei cittadini che subiscono dei danni e subiscono anche dei danni oltre che fisici, anche economici e anche morali a causa di questi reati pensiamo che ancora una volta questo Presidente del Consiglio vada non nella direzione di tutelare i cittadini e nel nostro caso riteniamo il cittadino onesto, il cittadino che paga le tasse, il cittadino che rispetta le regole bensì vengono tutelati ancora una volta quei cittadini che compiono dei reati e quei cittadini disonesti Renzi si è venduto in più di un'occasione come il Presidente del Consiglio del Popolo il Presidente del Consiglio degli italiani onesti gli italiani onesti sono quelli che non compiono reati gli italiani onesti sono quelli che li subiscono e nel momento in cui il Presidente del Consiglio tutela chi compie reati sta dalla parte dei disonesti